Niente da fare per l'Unione Calcio, costretta a rimandare ancora l'appuntamento col primo acuto in campionato e a dividere la posta in palio col Mola sul nuovo terreno amico del Gustavo Ventura. Terreno che regge bene l'urto della pioggia caduta copiosa su Viceglie in mattinata, ma non consente certo giocate di fino ai protagonisti dell'incontro. Anche per questo l'incontro stesso stenta a decollare nella frazione inaugurale caratterizzata dalla totale assenza di emozioni per mezz'ora abbondante. Bisogna attendere il 36esimo quindi per vedere qualcuno rompere gli indugi e Mascoli a provarci sugli sviluppi di un corner trovando l'opposizione di un avversario. Sempre dalla bandierina nasce poco dopo un'occasione per Albrizio che non riesce a indirizzare la sfera verso la porta molese. Il terzo tentativo però è quello buono per i padroni di casa. Anglani scatta sul filo dell'offside e centra per Albrizio, la cui zampata sotto misura non lascia scampo all'estremo Spadavecchia. È il 39esimo e la partita pare prendere la piega giusta per gli uomini in maglia arancio che in vista dell'intervallo reclamano il penalty per un presunto Mani in area di vittorio. La prevedibile reazione ospite nella ripresa porta ben presto i suoi frutti. Al dodicesimo per l'esattezza, quando una manovra elaborata mette Curci nelle condizioni di sparare a rete, superando così l'incolpevole Lullo. Uno a uno è tutto da rifare per l'Unione, che si proietta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Una ghiotta chance per riuscire nell'intento capita a Delbene, che ritarda la conclusione per poi servire Albrizio. Stavolta all'ex attaccante della Fidelisandria manca tuttavia la cattiveria necessaria per imboccare la via del gol. Sembra invece trovarla la via del gol Silla, ma Spadavecchia gliela nega con un tuffo provvidenziale. Nuove proteste Orange al ventitreesimo. L'assist di Albrizio per dipinto pare decisivo, ma l'esperto capitano cade a due passi dalla porta, forse per una spinta di triozzi. Il tentativo in acrobazia di Delcore dalla parte opposta serve soltanto ad alleggerire la pressione prima del serrate finale bicegliese. Ancora dipinto al tiro, al termine di un'azione assai confusa. Spadavecchia ci mette una pezza, per poi ripetersi sul filo di lana, intercettando una punizione di Pasquilli sporcata da Anglani. Finisce 1-1, risultato che va stretto a un'unione generosa ma poco lucida in zona gol e premia la tenacia del Mola nel voler portare a casa un punto prezioso.